Per prima di iniziare il video, ti ricordo di premere il tasto iscriviti e lasciare un mi piace, grazie. Eleonora Giorgi qualche mese fa confesso in diretta a pomeriggio 5 di aver iniziato la sua battaglia più grande, quella contro il cancro. L'attrice è stata colpita da un tumore al pancreas e ha iniziato la terapia di chemio per poi essere operata. Sempre con grinta, sui social ha aggiornato i fan sulle sue condizioni, confessando di essere che sarebbe stata dura, ma ce l'avrebbe fatta. In una recente intervista, però, ha annunciato che le cose potrebbero non andare come previsto. Al settimanale nuovo ha rivelato alcuni aspetti della sua nuova vita, della sua famiglia e del matrimonio tra suo figlio Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia. La mia giornata è scandita da una serie di impegni, legati agli effetti collaterali importanti della chemioterapia. Questa condizione mi era del tutto ignota, ma a suo modo è interessante, ha affermato la Giorgi. L'attrice ha poi continuato a raccontare il suo percorso parlando delle cure, certamente non semplici e leggere. I medici mi hanno detto che ho il 70% di possibilità di operarmi e, se tutto va bene, di vivere. Altrimenti me ne vado in un anno. Ci auguriamo che Eleonora riesca a vincere la sua battaglia più difficile e tornare presto alla sua vita, insieme ai figli e i nipoti che sono la sua gioia più grande. Grazie. Grazie. Grazie.